Renata Colorni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare, raccontare della parola traduzione, raccontare di Babel Festival che si tiene a Bellinzona, il festival della traduzione, dal 9 al 10, dal 10 al 12 settembre, il sedicesimo festival di letteratura e traduzione. Ora, Renata Colorni, lei in queste due parole, letteratura e traduzione, si trova proprio a suo agio guardando indietro il lavoro che lei ha fatto nel corso degli anni. Sì, certo, questo è vero. È la prima volta che io partecipo al festival Babel della traduzione, ma diverse mie amiche, come Ilide Carmignani e altre, hanno già partecipato e quindi sono lietissima di inaugurarlo quest'anno. Credo che la scelta di voler inaugurare con la mia persona questo festival è dovuta a un piccolo libro che io ho pubblicato. Il mestiere dell'ombra. Sì, Il mestiere dell'ombra tradurre letteratura per le edizioni Henry Bale di Milano. È vero che io mi trovo a mio agio con queste due parole perché corrispondono a un lavoro che ho fatto tutta la mia vita, cioè ho cominciato a tradurre negli anni settanta e ancora non ho finito. Ecco, e in realtà ho tradotto solo letteratura, cioè ho cominciato con le traduzioni di Freud che naturalmente è un grande scopritore, scienziato, filosofo, come volete chiamarlo, ma è anche un grande scrittore per poi passare alle traduzioni dal tedesco della casa editrice Adelphi dove ho lavorato per molti anni. Ad esempio per i libri di Thomas Bernard. Per i libri di Thomas Bernard, di Dürren, di Joseph Roth, di Canetti, insomma di diversi, di molti autori austriaci e tedeschi del Novecento e poi infine per Mondadori dove ho diretto per 25 anni la collana dei Meridiani ma ho anche tradotto in proprio, ho fatto anche una nuova traduzione della montagna magica, Zauberberg, di Thomas Mann. Quindi sì, è vero che con queste due parole corrispondono un po' al lavoro che ho fatto. Due parole importanti lei poco fa ha citato tra l'altro Joseph Roth che è un altro pilastro della letteratura e come non ricordare il romanzo di un uomo semplice, Giobbe. E' bellissimo. E' uno dei romanzi che, certo, sono un lettore distratto, uno dei romanzi che più mi ha toccato nel corso del tempo, la straordinaria storia di una semplicità profonda, ma di una semplicità lancinante. Ecco, e lei con questo libro a cui ha accenato poco fa, Renata Colorni, Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, premio Capalbio del 2021, quindi è fresca della consegna di un premio. Ora, mi attira molto questa parola, ombra, per questo libro che tra l'altro bisogna sottolinearlo, Renata Colorni, questo libro è un oggetto da leggere, da toccare, dove anche le immagini hanno un senso particolare, perché c'è una cura manuale. Ecco, credo che, allora, quando io ho avuto tra le mani questo libro, ho pensato che la stessa cura nel comporre questo libro, nel confezionarlo, nel mettere le immagini, sia un po' la stessa cura del lavorare su una parola da tradurre. Sì, lei ha ragione. Io ho scelto questo editore molto particolare, è un piccolo, elegantissimo editore, che pubblica solo cose brevi, testi brevi, non troverà dei volumoni di 500 pagine nel suo catalogo, testi brevi, e cura in maniera attentissima, addirittura maniacale, la perfezione del libro anche come oggetto, quindi la carta, la stampa, le immagini, la copertina. E questa cura mi è cara, perché non è solo frutto di una maniacalità, ma è soprattutto espressione di amore, dell'amore per il libro, per il libro naturalmente cartaceo, siamo in epoca di libri virtuali, di libri digitali. Ecco, questo oggetto è davvero confezionato, come dice lei, con grandissima cura e con grandissimo amore. Sì, con grandissimo amore, anche con una grande fedeltà alla parola, e detto a una persona che si è occupata di traduzioni, la fedeltà alla letteratura, e deve appartenere per forza a un traduttore, Renata Colorni. Scusi, non ho capito la sua domanda. Dicevo, la fedeltà alla parola deve appartenere per forza a chi fa la traduzione. Sì, ma vede, la fedeltà alla parola non è necessariamente qualche cosa che rispecchia fedelmente la parola della lingua di partenza, nella lingua d'arrivo, perché non sempre questo è possibile. io intendo fedeltà in un senso più alto, cioè fedeltà allo spirito del testo, al tono, alla musica, e che qualche volta comporta la necessità di una certa infedeltà alla lettera, non mi capisci? E dovremmo andare a trovare, Renata Colorni lo dico in una lingua, lei molto cara, forse mi dica se sbaglio, per ogni parola dobbiamo, chi fa la traduzione deve entrare dentro lo stimung. Sì, certo, certo. Lo stimung, cioè l'atmosfera e il clima, l'atmosfera e il clima di quella parola nel testo. Le faccio un esempio, ci sono dei testi, c'è un testo che io ho tradotto che è molto interessante, molto bello, che è La morte della pizia di Duren, ma te l'ho tradotto per Adelphi, è un libro piccolo, che ha nelle sue parole una componente sarcastica, ironica, molto forte, con giochi di parole anche di tipo, come dire, grottesco, ironico. Non sempre nella resa di questo testo in italiano è possibile rispettare alla lettera quel tipo di tonalità. Appunto, becera ironica, anche un po' rozza in qualche momento. L'importante però è che sia restituito quel tono sulla pagina, quindi qualche volta bisogna essere infedeli alla lettera per essere fedeli allo spirito. Ecco, questo era per rispondere un po' alla sua domanda di prima. Fedeli allo spirito, questa è una condizione che appartiene ai traduttori ma deve appartenere a tutti. E all'arte. Io sono convinta che la traduzione letteraria sia un lavoro letterario a pieno titolo, sia una sorta di ricreazione, cioè di creazione ex novo di un testo, a partire naturalmente dai contenuti del testo di partenza che vanno preservati con grandissima attenzione, ma poi la forma che viene inventata dal traduttore ha una sua, come dire, autonomia artistica. È quello che ho cercato di dimostrare in questo piccolo libro. Renata Colorni, lei sarà bellinzona per il Festival Babel e che cosa racconterà al pubblico? Non lo so, non ho la minima idea perché io non ho niente di nuovo da raccontare. Credo che il mio intervento consisterà in una conversazione, in risposte che intendo dare, in una conversazione con una bravissima traduttrice che è mia amica da tantissimi anni, che è una traduttrice dallo spagnolo, che è Ilide Carmignani, che è una donna che si è anche molto occupata di fare ascoltare la voce dei traduttori nella comunità letteraria italiana. Insieme ad Arduini ha organizzato per tantissimi anni e organizza tuttora le giornate della traduzione letteraria al Salone del Libro di Torino e si occupa di quello che viene chiamato l'autore invisibile, ovvero il traduttore. Quindi è una persona che oltre a tradurre è molto interessata alla teoria della traduzione. Io molto meno di lei alla teoria della traduzione. Mi piace più tradurre che non parlare di traduzione. Ma in questo caso faremo una conversazione a due. Elie De Carmignani è stata sovente nostra ospite qui nel posto delle parole ricordando Luis Sepulveda. Abbiamo ricordato insieme con lei il giorno della scomparsa di Luis Sepulveda. Abbiamo raccontato i sepolcri di Cowboy di Roberto Bolagno per ricordare alcune delle conversazioni. Però Renata Colorni tornare a Bellinzona. Ora è chiaro noi stiamo parlando della sua attività di traduttrice e non solo. Ma tornare a Bellinzona per lei ha un valore importante perché la riporta a una storia bambina. Sì questo non c'entra niente con il festival della traduzione di bambini comunque sì è vero io sono stata a Bellinzona quando ero molto molto piccola cioè avevo tre anni quattro anni dal 43 al 44 45 a causa delle leggi razziali siamo sfollati dall'Italia da Lanzo Nintelvi con mia madre che si chiamava Ursula Hirschman e siamo stati a Bellinzona io non ci torno da allora non ci sono mai più tornata quindi è vero ha per me un valore ha un valore di memoria sì. Renata Colorni ci vuole raccontare dove è lei adesso la sua camera quali libri ci sono a portata di mano sulla sua scrivania ce la vuole raccontare? Ma guardi di libri ne ho tanti sulla mia scrivania però in questo momento poiché c'è insomma mi fa piacere ricordare un libro di una bravissima scrittrice che è anche in questo momento secondo me la più importante giornalista italiana che parla di Kabul e cioè Francesca Mannocchi che ha scritto un libro molto bello che è intitolato Bianco è il colore del danno uscito da Einaudi l'ha pubblicato Einaudi sì mi piace ricordare questo libro che è un libro di raffinata intelligenza letteraria e di toccante umanità il libro che racconta come si convive e questo è quello che succede a Francesca Mannocchi con una malattia cronica come la sclerosi multipla che è al momento tenuta assolutamente a bada tant'è che lei è stata a Kabul per 15 giorni e ne è tornata raccontando in meravigliosi reportaggi importanti reportaggi sull'Espresso su Repubblica e alla televisione però è una malattia che esiste nella nella sua nella sua vita e con la quale lei convive con una intelligenza e una grazia straordinarie questo è un libro poi in questo momento sto rileggendo Delitto e Castigo in una nuova traduzione di Einaudi e Il primo uomo di Camus che è un libro che non avevo mai letto e che anche sto leggendo in questo momento incredibilmente per la prima volta sì Il primo uomo di Albert Camus credo che tra l'altro nemmeno io l'ho letto lo confesso credo che sia tra i libri meno citati di Albert Camus è uno dei libri meno citati ed è interessantissimo è un libro che è incompiuto perché è stato trovato tra le carte di Camus quando lui ha avuto un incidente automobilistico nel quale è morto insieme all'editore Gallimard tra l'altro tra l'altro è un incidente è un incidente mi scusi se la interrompo su cui si è indagato molto perché è un incidente oppure è qualcos'altro di questo non so niente ma quello che so è che mi sto appassionando enormemente a questo libro sì Renata Coloni prima di salutare le pongo ancora una domanda lei ha curato traduzioni da diversi anni sente la necessità magari rileggendo una sua traduzione fatta diversi anni fa di dare una nuova identità a quella scrittura a volte ma guardi le dico la verità che non è che mi capita molto spesso di rileggere le mie traduzioni perché quello che mi capita di più è di leggere o di rileggere dei libri che che non conosco però certamente sono convinta che se rileggessi con attenzione le mie traduzioni di 20 30 50 anni fa perché le prime traduzioni che ho fatte sono degli anni 70 mi verrebbe voglia non di cambiare forse l'identità ma di correggere di rettificare di affinare questo o quel passaggio perché ritengo la traduzione è un lavoro interminabile quindi sicuramente avrei molte cose da dire adesso francamente non mi viene in mente di di voler buttare via una traduzione che ho fatto per sostituirla con un altro questo no però di sicuro emendarla affinarla certo grazie grazie davvero Renata Colorni del tempo che ci ha dedicato per raccontare di questa straordinaria parola che è la traduzione una parola a cui dobbiamo molto perché noi quando leggiamo un libro un romanzo un saggio e spesse volte dobbiamo dire grazie al chi cura la traduzione e se è un libro diciamo spesse volte mi è piaciuto e anche grazie e anche grazie alla alla traduzione le auguro una buona giornata Renata Colorni buongiorno grazie a lei buongiorno grazie a lei grazie a lei